ciao ragazze questo sarà un video velocissimo che parlerà sul mascara chi di voi non ha avuto problemi ad applicare mascara e tutte le ciglia si incollano praticamente c'è questo youtuber metterò il link sotto si chiama gauze makeup artist suo nome è wayne è un ragazzo inglese un super artista lui è proprio professionista un makeup artist e lui ha dato una dritta perché le masca il mascara non si appiccichi e non faccia proprio la incolare tutte le ciglia è una cosa che fa un po di dolore specialmente se comprate dei mascara un po costosi dovete letteralmente prenderlo passarlo in un po di carta fatte letteralmente così eliminerà l'eccesso di mascara facendo così mettete sull'occhio non lo faccio adesso perché ho già il mascara e vedrete lasciatemi i commenti io l'ho fatto sto condividendo con voi perché ho trovato fantastico sembra una cosa così ovvia dopo chi uno pensa però non viene naturale di farlo anche perché uno spende i soldi ovviamente per fare per comprare un mascara però vale la pena perché le ciglia poi rimangano totalmente separate non c'è quell'effetto terribile del mascara ragazzi volevo condividere con voi è su youtube il suo video ma comunque linkerò il suo canale sotto guardate e andate a vederlo perché è un grande artista vi lascio un bacione e ci vediamo prossimamente ragazzi ciao